Sono quasi tutte donne e sono loro ad assicurare i pasti caldi nei quattro ospedali teramani anche durante il Covid-19. Eppure non vengono retribuite dal mese di settembre dall'azienda PAP di Teramo, dalla quale dipendono. E' la denuncia grave che lancia la Filcams Cigelle di Teramo e che a causa di tutto ciò annuncia uno sciopero del servizio Mensa nei nosocomi dell'aslo di Teramo il 15 dicembre prossimo. Il sindacato ricorda che già il 27 marzo 2020, in piena pandemia, queste lavoratrici e lavoratori hanno dovuto mettere in scena un flash mob con cartelli di protesta su tutti e quattro i presidi ospedalieri di Teramo per lamentare ancora il ritardo degli stipendi. Ad oggi nulla è cambiato. L'incertezza di ricevere una retribuzione crea in loro incertezza nei pagamenti di mutui, finanziamenti, spese per le scuole dei propri figli, bollette, spese correnti. Alcune lavoratrici sono state costrette, e lo sono tuttora, a rivolgersi alla Caritas perché non riescono a mettere niente in tavola. Eppure, continua la Filcams Cigelle, siamo in provincia di Teramo, si tratta di un appalto pubblico, ma ancora oggi non si trova una soluzione. Come organizzazione sindacale chiediamo la ASL il pagamento diretto degli stipendi, e nonostante avessimo descritto perfettamente le condizioni in cui versano le lavoratrici e i lavoratori, l'azienda PAP non ha fornito nessuna rassicurazione sul pagamento immediato dello stipendio. Per queste ragioni, conclude il sindacato, il 15 dicembre ci sarà lo sciopero su tutti e quattro i presidi ospedalieri teramani, con conseguente disservizio vista anche l'attuale situazione emergenziale.